569 detenuti in una casa circondariale che potrebbe contenerne 155, questo è il numero più tristemente indicativo sulle purtroppo note condizioni del penitenziario di Piazza Lanza a Catania. L'ispezione dell'ultimo dell'anno, una visita accurata, è stata compiuta stamane da Rita Bernardini, deputato dei radicali italiani, che parla senza tanti giri di parole di vera e propria illegalità. Al di là della buona volontà, questo carcere, come il 99% delle carceri italiane, è un carcere illegale, fuori della legalità costituzionale. Quando la pressione detentiva è più del triplo, le cose si rompono più facilmente, la manutenzione diventa impossibile. Questo è un carcere dove non c'è il riscaldamento, per esempio, e la gente è costretta a stare in cella vestita, a dormire vestita. Quindi siamo quasi alla metà del personale previsto nel 2001, quelle erano le piante organiche, quando i detenuti erano molti di meno. Riteniamo che invece lo Stato debba partire da un'amnistia legale, cioè quella prevista dalla Costituzione, per poter fare quelle riforme che sono necessarie per il trattamento dei detenuti e per il trattamento della giustizia. Perché noi siamo stati condannati in Europa, non si sa quante volte, anzi lo so, 1200 volte, per l'irragionevole durata dei processi.